questo è l'ingresso la gente arriva queste mangiacche qua la gente arriva qui abbiamo lo specchio ciao ciao cucinino abbiamo Harvey speravo di spaventarmi invece no abbiamo prima toilette seconda toilette prima era per i bambini piccolini ci sta per gli adulti e poi scendiamo siccome questo va messo grazie a tutti